Allora, vogliamo consigliare a tutti l'utilizzo del trapianto dei capelli con la tecnica FUE che abbiamo fatto qui a Istanbul perché ci siamo trovati bene, io è già la seconda volta che lo faccio, tutto è andato secondo programma, sono rimasto soddisfatto, quindi lo consiglio a tutti quanti, venite con tranquillità in Turchia perché veramente l'intervento funziona. Poi se qua c'è Donato, potrei dire qualcosa? Vabbè, io in caso estremo sono riusciti a mettere tutto in sesto, sono molto contento, tutto ok, grazie a tutti. Ok, un saluto, venite tranquillamente che tutto funziona, garantito. Grazie. Grazie. Ciao. Quasi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.